Sbarcati nei giorni scorsi a Lampedusa, trasferiti a Crutone e da qui fuggiti a piedi, hanno incontrato sui binari di località Tramonti solidarietà e accoglienza. È la storia di otto minori di nazionalità eritrea, intercettati e soccorsi dei carabinieri nell'operazione condotta dal Maggiore Marco Filippi e dall'equipo dei servizi sociali. Stanno bene e sono stati trasferiti al centro di accoglienza per richiedenti asilo per minori di Isola Caporizzuto, il CARA. Ad esprimere soddisfazione per come questa emergenza è stata affrontata è il sindaco Cataldo Minò, ringraziando quanti sono intervenuti. Le operazioni di soccorso sono state coordinate dal vice sindaco Maria Crescente, ecco adiuvate dagli assessori Francesco Cicciu e Tommaso Critelli. La responsabile dell'ufficio area alla persona, Francesca Forciniti, insieme alla coordinatrice degli assistenti sociali, Imma Bossida, e al mediatore culturale Francesco Urso, dopo aver valutato eventuali condizioni di inserimento dei minori, pur avendo riscontrato la disponibilità delle sue aree di Santa Gemma ad accogliere i giovani profughi, hanno ritenuto opportuno trasferire i ragazzi nel CARA del comune crotonese. Ad ognuno di loro sono state donate delle scarpe nuove e dopo averli rifocillati è stata la stessa vice sindaco Crescente ad accompagnarli nel centro di accoglienza.